Che i cani e i gatti abbiano un'ottima materia grigia già lo sappiamo, ma ci sono altri animali che hanno un cervello addirittura più sviluppato del loro. Scopriamo quindi i 10 animali più intelligenti. Nella top 10 entra il cavallo. Ha sempre collaborato con l'uomo fin dall'antichità, è un animale utile con una grande memoria, che sa imparare dei comandi e sopporta situazioni di stress pesante. Al nono posto il falco. Oltre a una grande abilità nella caccia, i falchi sono stati usati in passato come messaggeri, visto che hanno sempre mostrato grande capacità di orientamento. Ottava piazza per gli scoiattoli. Sono imbattibili quando c'è da procurarsi da mangiare, nessuno riesce a organizzarsi per creare provviste come i teneri roditori dalla coda pelosa. Settimo posto per gli elefanti. Hanno un cervello molto grosso che usano per alcune interazioni sociali molto complesse. Famosi per la loro memoria, sono in grado di apprendere semplici comandi. In sesta posizione, il polpo. Chi l'avrebbe detto? Anche un invertebrato in questa classifica. Il polpo è un abilissimo cacciatore, in grado di utilizzare strategie complesse per stanare le prede. Top 5 per le orche. Famose per le dimensioni e il killer instinct, usano suoni complessi per comunicare tra simili. L'orca ha anche un grande cervello in grado di apprendere i comandi dell'uomo. Al quarto posto, i pappagalli. Sono in grado di parlare ripetendo ciò che hanno sentito in precedenza, ma non solo. Riescono a risolvere problemi complessi per la propria sopravvivenza. Ultimo gradino del podio per i delfini. Le cerche scientifiche hanno dimostrato che i delfini possiedono il cervello più grande di tutto il regno animale. Sono caratterizzati da una grande capacità comunicativa. Al secondo posto, i maiali. La loro intelligenza può essere paragonata a quella di un bambino di tre anni. Hanno grande capacità di adattamento e sanno apprendere nuove abilità. Al primo posto, come da previsioni, lo scimpansee. Sono gli antenati dell'uomo e come l'uomo sono in grado di usare degli strumenti per raggiungere determinati obiettivi. Usano la logica e risolvono problemi complessi. Grazie a tutti.